Benvenuti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Scusate ma sto senza voce. Allora, volevo farvi presente l'esistenza di questo sito. Questo sito si chiama Fox Kingdom ed è un sito nel quale potete trovare articoli di informatica, anche abbigliamento, un sacco di cose. Vi consiglio di andarlo a vedere. Ha al 66% di sconto. È un sito veramente buono. Io ho acquistato sopra e adesso sto aspettando che mi arriva perché l'unica cosa è che il fatto che hai un 66% di sconto, devi aspettare un pochino prima che ti arriva. E c'è una lista. Una volta che hai pagato con carta o con bonifico, viene aggiunta questa lista. E piano piano, con la tecnica della compensazione, ti verrà mandato il prodotto. Ma c'è in movimento la nascita di una nuova lista, di nuove liste. Dal 3 aprile, come potete leggere qui, ci sarà un grande sponsor, Fabrizio Corona, con Adalet. Essi modificheranno le liste facendo in modo che anche gli ultimi saranno i primi. e c'è anche un gruppo Telegram. Qui ci sono tutte le informazioni. Se entrate sul canale Telegram, loro vi aiutano, vi sostengono, vi rispondono alle domande e potete anche vedere degli unboxing. Ve lo consiglio veramente e vi aspetto sul gruppo di Telegram. E i prodotti sono veramente buoni. Ci sta un sacco di scela tra Samsung, iPhone, un sacco di televisori, Toshiba, eccetera. E anche abbigliamento Nike, Louis Vuitton. Ha dei prezzi veramente, veramente pazzi. E niente, vi lascio il link dell'info box e vi aspetto. Buona giornata a tutti. Ciao! Ciao! Grazie.